Siamo molto contenti come Fire di essere stati coinvolti in questo evento che riguarda i contratti a garanzia di prestazione che sono uno strumento che abbiamo sempre seguito in passato e abbiamo sempre cercato di appoggiare perché riteniamo, anche questo prima della direttiva 2632 e dopo la direttiva 2632 e poi la successiva 2012-27 sono secondo noi uno strumento centrale per fare efficienza energetica un po' in tutti i settori. Questa giornata è maggiormente legata al settore pubblico ma l'EPC può essere un contratto prestazionale può esserci in tutti i settori e può essere di interesse per tutti i settori. Tra le nostre attività c'è il progetto Garantì nel quale Firenea sono la compagine italiana che prevede di facilitare l'EPC negli edifici anche attraverso il ruolo dei facilitatori e poi proponendo alcune clausole contrattuali più flessibili. Un altro ruolo centrale nell'EPC è la valutazione dei risparmi e per questo abbiamo tradotto in italiano il protocollo IPMVP che è il riferimento internazionale sulla valutazione dei risparmi nato proprio 20 anni fa per i grossi appalti federali dell'ESCO nordamericane e come altra cosa collaboriamo anche partecipando al gruppo EFIG abbiamo collaborato alla traduzione italiana del database DEEP che raccoglie i risultati di azioni di efficienza energetica nel settore industriale e nel settore edifici e questo può aiutare le istituzioni finanziarie a valutare con una base dati statisticamente rilevante quelli che sono i reali risultati dei vari interventi di efficienza energetica quindi può andare a supportare, ad aiutare la finanziabilità degli interventi di efficienza energetica. Grazie Grazie Grazie